Era il 2 marzo del 2003 quando Emanuele Petri, sovrintendente della Polfer, venne ucciso in un conflitto a fuoco dalle BR. Avvenne sul treno Roma-Firenze all'altezza della stazione di Castiglion-Fiorentino. Onori ai caduti della Polizia di Stato. Le celebrazioni per ricordare questo sacrificio di Emanuele Petri sono iniziate a Castiglion-Fiorentino, la stazione dove proprio il sovrintendente perse la vita. Poi si sono spostate a Camucia dove gli è stato intitolato un parco pubblico. Alle cerimoni hanno preso parte anche il sottosegretario di Stato all'interno Nicola Molteni e Maria Teresa Sempreviva, vice capo della Polizia di Stato. Il dolore è sempre lo stesso, anzi vi dico la verità, ogni anno è sempre più grande perché noi ci facciamo sempre più grandi, quindi avremmo bisogno della sua compagnia, della sua presenza che era fortissima. E quindi questo ogni anno è sempre peggio, però ecco, ogni anno che passa, come potete vedere, è sempre la stessa cosa. Quindi per me e per noi, per la nostra famiglia, è un motivo veramente di orgoglio, vuol dire che nessuno l'ha dimenticato. La parte sbagliata non premia mai, anzi, porta sempre morte e dolore, quindi dobbiamo sempre impegnarci per stare dalla parte giusta. E poi lui amava tanto i ragazzi, amava tanto i bambini, quindi sicuramente sarebbe contento di dire queste cose che praticamente, ecco, dobbiamo sempre stare dalla parte giusta. Tra le poche cose che in questi 19 anni non è mai venuta meno ed è stata sempre ricordata l'anniversario di questa Barbara uccisione. Credo che neanche la pandemia, il maltempo, le guerre, ecco, fermano un ricordo di un uomo che ha perso la vita facendo il suo lavoro al servizio dello Stato e tra l'altro rendendo allo Stato qualcosa di particolarmente utile anche per la ricerca e anche quello che è stata la sconfitta anche delle Brigate Rosse.